Questo programma è offerto da... Il signor Magi, il grande commerciante di tortufi Nelle puntate precedenti di spin-off Pikachu, super fulmine! Baresa, beh tipico dei baresi fare irruzione in casa altrui Sì, la capisco come cosa Comunque i francesi sono abbastanza sporchi Eccoli là, tutti scioccati, sì Ho aperto un vaso di... Merda, è proprio simpaticissimo oggi Fabrizio, sei ancora lì? Io Aldo Sì, ma che gruppo di amici di merda Non dobbiamo parlare di Stranger Things Non ci interessa Bentornati alle cose più strane Più o meno Quindi niente, ciao, ci sono anch'io oggi, ciao Oh ragazzi, da dove è Umberta? E comunque grazie per avermi rovinato l'intero Si è stretto un pochino le chiaffette Ma Umberta con la UM? Secondo me... No Better Console, come fai a dargli di meno? Anche soltanto per l'estetica, per la regia Cioè, questo è ciò che penso di Stranger Things Ma non è già costruita la lavanderia? Oh jeez, here we go Federico? Aldo Fabrizio E bentornati a Spin Off Questa è la 1x19 Siamo quasi arrivati a cambiare la prima cifra Sono quasi emozionato Quasi So che ci tenete a saperlo Ma sono tornato ufficialmente a Berlino Quindi Parigi è ormai passata Non me la ricordo neanche più Per quest'oggi Mi voglio dedicare A presentare i miei co-conduttori Da un punto di vista numerico Molto peculiare Molto strano Perché la puntata in questione è su Stranger Things Quindi parlando di cose strane E di cose ancora più strane Voglio presentare Aldo Tramite il prefisso telefonico di Brescia Quindi Aldo gentilmente Presentati dicendo semplicemente le tre cifre che lo compongono 030 Grazie mille A questo punto ci spostiamo in quel di Scozia Dove Fabrizio gentilmente Se smetti di mangiare la pizza che ho appena ordinato No no non sto mangiando giuro Ci potrà dire come inizia il prefisso telefonico di Edimburgo Grazie ne so io Prefisso Edimburgo 0131 In realtà è 131 Questo pezzo lo devo tagliare e lascio la sua risposta giusta Ah si conosco perfettamente il prefisso di Edimburgo 131 Ok bene Quindi se uno è 030 E l'altro è 131 Berlino sarà 232 3113 Ebbene no È 030 Come quello di Brescia Ma davvero? Quindi uno rischia di chiamarti a Berlino Se vuol chiamare qualcuno a Brescia È una cosa stranissima Voi non potete vedere ma c'è Aldo che sta controllando Questa è una cazzata che ha detto uno dei tuoi amici Sa di che cosa No ebbene si è 030 Quindi Aldo abbiamo qualcosa in comune a parte l'odio che ci accomuna L'uno per l'altro intendi? Sì ovviamente Numeri a parte Neanche tanto numeri a parte perché si andrà a parlare di Eleven O di Umberta Che dir si voglia Continuiamo la discussione che abbiamo aperto nella puntata precedente E riguardante Stranger Things Perché Stranger Things è divisa in due Come già sappiamo 9 episodi 7 è la prima parte E qualcuno che non sapeva fare le divisioni in quarta elementare Ne ha messo in due nella seconda Ma in realtà hanno deciso all'ultimo Anche lì io ho una domanda Ho una piccola cospirazione da esporre a voi La decisione all'ultimo di non far più uscire Prima quattro puntate dopo cinque O comunque adesso non mi ricordo come ne ha suddiviso circa il 50% Le nove puntate Invece suddividerle 7 e 2 Può essere legato all'emorragia di abbonati che sta avendo adesso Netflix? Assolutamente sì Quindi gli si stretta un po' il culo anche a loro Hanno deciso di usare la loro serie di punta Per cercare di tenerli un po' attaccati C'è anche stata l'uscita di Obi-Wan Kenobi su Disney Plus Praticamente nello stesso momento Che è una serie che sicuramente porta in quella direzione Quindi sì, sembrerebbe un po' la mossa da ha tirato il culo Sì, allora sicuramente è dovuto a questa cosa qua E ha senso se ci pensate In un momento in cui c'è una battaglia dello streaming allucinante I vari colossi si uccidono a vicenda per avere abbonati Netflix ha aumentato anche il costo degli abbonamenti Ne parlavamo qualche puntata fa E avere un titolo di punta tipo Stranger Things Che è la serie tv più seguita in assoluto su Netflix Ha senso se la spalmi un po' Soprattutto a distanza di 4 anni Tra l'altro leggevo un articolo e qualche statistica Ovviamente qualche giorno fa E dicevano che non c'è stata nessuna serie tv Nell'ultima decade o più Che tra il periodo in cui c'è stato il season finale E la season premiere Quindi tra la fine della stagione precedente E l'inizio della nuova Non c'è stata una serie tv Che abbia avuto così tanti tweet O hashtag eccetera Come Stranger Things Quindi praticamente il volume di interazioni Di interesse Ha avuto un declino Ma è rimasto abbastanza stabile Quindi ha anche senso come strategia Che se la siano divisa in due Discutibile Perché ovviamente noi Fluiremmo più facilmente Una stagione rilasciata In maniera univoca Però ci sta Non l'avranno mai fatto prima Di fare una cosa del genere Con Stranger Things Adesso ha senso tenerlo fino a luglio L'unica cosa che non capisco È se poi l'obiettivo È quello di riuscire A bloccare gli abbonati O comunque costringerli A rimanere per più mesi Perché non rilasciare una puntata Invece a settimana Non avrebbe avuto più senso Secondo me Va contro Il DNA Di Netflix Non l'avranno mai fatto Quindi Magari è una modalità Che faranno in futuro Però Si distinguono così Rispetto a Disney O Amazon Non cito neanche Peacock Perché Non ci interessa Però Netflix è quella che Fa binge watching Rilascia tutto subito Adesso ha diviso L'ultima stagione In due parti con Ozark Per esempio Ha fatto la stessa cosa Con Stranger Things Mi piaciucchia anche l'idea Perché comunque Te la fa un attimo Dilatare di più Anche se in solito Apprezzi un po' di più Le puntate che hai adesso Puoi passare un mese E poi escono le ultime due Better Call Saul Invece bisogna aspettare L'11 luglio Che ritorna tra l'altro Con una puntata Diretta da Vince Gilligan Nella scorsa puntata Comunque abbiamo parlato Di molti dettagli inutili Che si potevano evitare In Better Call Saul Hanno fatto il loro dovere Però Sì Candela finale a parte Il resto magari Un po' un surplus Di dettagli inutili Invece ce ne sono parecchi In Stranger Things Parecchi che vengono quantificati Più o meno In 20 minuti In più a puntata Tranquillamente Sì Qualcosa del genere Ne avete uno Che vi è rimasto Impresso O anche più di uno Faccio proprio un esempio Chiaro C'è un momento In cui Quando il gruppo Va nella casa maledetta Prova ad entrare Nella porta All'improvviso Poi descritta così Uno pensa che stiamo Guardando Ghostbusters Ah non è Ghostbusters? È la casa di Victor Che tra l'altro A me continua a venire in mente Il tipo di From Quando sento parlare Di Victor adesso Meno male che non ti viene in mente Quello di Fear the Walking Dead Aldo Ah Madonna Victor Strand L'avevo già rimosso Il generalissimo Vabbè Comunque Ritornando all'esempio Grazie per la parentesi All'improvviso Tutti quanti dicono E come facciamo ad entrare Non ci sono le chiavi Si gira La telecamera Verso Robin Che ha Una mattonella in mano E dice Ci penso io qua La soluzione Ma parla proprio così Robin Cos'è La chiacchia è la doppia Sì sì Penso sia barese Barese Beh tipico dei baresi Fare irruzione in casa altrui Tra l'altro Robin In italiano Chiamata Robina Tipo Robin Cos'è Dustin? Giustino Giustino Will Guglielmo Ah proprio Lui giusto Lui giusto Però Will Guglielmo Sì sì Li rendono tutti quanti dei nobili Sì ma che gruppo di amici di merda Giustino Guglielmo Guglielmo Allora a sto punto Risparmiati qualcosina E focalizzati sul resto Se vuoi fare questa trama secondaria Hanno esagerato Sono andati oltre il semplice teenager movie Con la scena dell'aereo che precipita Ci sono veramente due scappati di casa Che si sono ritrovati a combattere criminali su aerei eccetera E se la sono sempre scampata Con l'altro che è un esperto di karate a quanto pare Non lo sapeva manco lui Adesso atterra tutti con tre calci Mi è piaciuto soltanto il momento in cui finalmente C'è stata la resa dei conti Il momento in cui li hanno buttati in pasto al Il demogorgone E vabbè poi ovviamente l'abbraccio tra Opera e Joyce Comunque dopo tutto sto casino E certo alla fine ti dà soddisfazione quando si abbracciano Per me la perdita di tempo è alla base Perché questo telefilm doveva già finire da un po' Non ti dico che questa stagione sia la peggiore Anzi rispetto alla stagione precedente Questa la preferisco di gran lunga Però è che non vedo proprio lo scopo Capito la ragione Per il resto cosa gli vuoi dire a Stranger Things È come Better Call Saul Con tutti i soldi che ci spendono Ci mancherebbe che faccia schifo Gli attori comunque Nonostante siano attori presi da bambini Presi dalla strada No che non sai mai come potrebbero diventare Se diventano attori cani o meno Io dico che a livello di interpretazioni Comunque la serie ci sta Nel complesso tutti quanti sono bravi È che mi sembra veramente Che si stia spremendo qualcosa Ma proprio oltre l'inverosimile Una serie di ottime idee Che magari potevano essere sviluppate Per creare qualcosa di diverso Qualcosa di nuovo Invece che spremere la vacca gravida Però appunto ci sono altre mille ragioni Legate principalmente all'aspetto finanziario Quindi ci sta che sia così Però io non riesco più a emozionarmi Prima stagione Seconda ancora ancora Poi ho perso l'emozione Per Stranger Things La stagione è soddisfacente Poi alla fine ha quella cosa Come la Casa dei Papel Stranger Things Ha quella capacità Quella forza Di tenerti proprio incollato Perché lo storytelling È un bello storytelling È proprio È coinvolgente Poi giocano ovviamente Sui finti cliffhanger Ah quindi come la Casa dei Papel Dai È la merda È il cioccolato Sono tutti cliffhanger Poi si trasformano In ovvi Non colpi di scena Dove la persona che stava per morire Si salva Giustamente come appunto Steve Alla fine della penultima puntata Però ha quel magnetismo Che aveva anche la Casa dei Papel Con tutto il trash E lo schifo che si porta dietro Ma che non puoi smettere di guardarlo Cioè non lo so A volte è tipo un guilty pleasure Lo guardi Non vorresti vederlo Come una roba tipo Jersey Shore Quelle cose lì capito Che lo guardi Dici perché lo sto guardando Sto diventando scemo guardandolo Però non ce la fai a staccarti E ovviamente Non voglio paragonarlo con Jersey Shore Ti hai fatto con la Casa dei Papel Piano con i paragoni Ma la Casa dei Papel Mi sembra un buon Non ho detto che la qualità è la stessa Stranger Things è la Casa dei Papel Proprio gli piscia sopra E il discorso è che Il modo in cui ti arpionano È lo stesso È un po' vigliacco Cioè ti prendono proprio Con questo storytelling coinvolgente Che non ha neanche Tutta questa Coerenza narrativa Ci sono un sacco di robe Che succedono Perché succedono Però te non ti stacchi E te lo guardi E non ci puoi fare niente Questo è il superpotere Di Stranger Things Posso dire che secondo me C'è un errore iniziale Generale Ovvero Tu guardi la prima stagione Di La Casa dei Papel E dici Bah carina Non urli al capolavoro Ok Poi guardi la seconda E dici Eh Un po' Un po' Una merda La terza La guardi in bagno La quarta Sei ancora in bagno Questa volta Direttamente senza pantaloni E va avanti così Che cazzo di metafora Stai usando Fede Diarea fulminante Va bene Stranger Things Invece È cominciata bene Ma io non ho mai capito Il perché Sì è stata così tanto famosa A parte il Rievocare Gli anni 80 Colonna sonora Veramente studiata Ad hoc Non è un capolavoro Prima stagione Molto 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 più bella Cioè A me era piaciuta Tantissimo Va bene Sono d'accordo con te Magari non il capolavoro Però era un ottimo show Soprattutto per noi Che siamo appunto Con la fascialità lì Comunque questa stagione Con questa riscoperta Splatter Horror Eccetera Devo dire Che è riguadagnato molto A livello di storytelling Come diceva Fabrizio E gli do ragione Anche su un'altra cosa Fatalità di essere Per ragione a Fabrizio Quando ha ragione la gente Mi piace Essere nel giusto E condividere le mie opinioni Esatto Mi piace essere nel giusto A meno che non sia tu L'altra persona Allora evito di farlo Però tutta la parte di Hopper E di Joyce E l'altro tizio Con lo sguardo allucinato Murai Sarà Murray Murai Samurai Murray Joyce And Hopper Ecco loro tre Diciamo Tutta la loro parte Di storia Non è che sia così Bella Anche perché Stiamo parlando di due Che abbandonano dei figli Partono per andare in Alaska Perché uno Gli ha chiamati Dicendoli di portare 40.000 dollari Con una lettera Minatoria Praticamente Tra l'altro 40.000 dollari Che negli anni 80 Volevano così A spanne Direi 100.000 euro Comunque no Niente Tutta quella parte lì Davvero Cioè ero contento Ha detto Ah vabbè Magari adesso Troveranno il modo Di ricongiungersi E torna indietro Eccetera Capisco che non possa Essere immediato Per mille motivi Fa bene Però il piano Che salta Il tipo Che tradisce La guardia Tradisce Hopper Tradisce Joyce Li porta in aereo Per me è veramente Troppo tempo Dietro tutte queste cose Ti do ragione Impossibile Mi dai ragione Do ragione All'idea Che hai partorito Sì Che la storia Potesse essere Tagliata Diciamo Ad hoc In 4-5 puntate Non in 7 Però Vogliamo parlare Del percorso Psicologico Di Eleven Che è dentro Nina Ora sembra che stia parlando Di cose strane Tra l'altro cose più strane Eleven è dentro Nina Anzi Umberta È dentro Nina Cioè È la classica situazione Vista e stravista In 800 serie tv O film Non mi dà niente di nuovo Niente Comunque Nina Sequenza uguale a Fringe O uguale identica Sembrava di vedere Olivia Dunham Messa dentro nel liquido Con le cose in testa Era lei Tra l'altro Nina Nina Sharp Tutto torna È per questo che ti dicevo Che non mi ha lasciato Nessuna cosa Dentro Fede Perché è uno show Un po' senza anima È rimasto un po' senza anima È tutto un continuo Rievocare Citare Perché devi fare Fan service Per appunto La nostra fascia d'età Che è sensibile A tutto ciò Però questa stagione Nonostante sia meglio Appunto Della precedente Per come ha detto Aldo Di splatter Violenza Una maturità maggiore Rispetto alle altre Che comunque viene dal fatto Che i protagonisti Sono cresciuti Quindi come in Harry Potter Capito I film sono diventati Mano a mano Più dark Andando avanti Perché comunque Anche il pubblico Segue la crescita Da un prodotto del genere Non mi aspetto più niente Perché secondo me Non ha più senso Alla base Però ripeto Ottimo intrattenimento È solo che non ci trovo Appunto Quella fiamma Quella passione Dietro È solo un Guardare situazioni Appunto Già viste In magari altri film O serie Io Continuo a dire che Questa serie Fin da subito Era stata Sopravvalutata E questa cosa Ha portato Secondo me Proprio alla rovina Della serie Perché se la serie Non avesse avuto Tutto questo successo Fin dall'inizio Non si sarebbe Snaturata Da mano a mano E soprattutto L'avrebbero chiusa prima Avrebbero dato Una chiusura Più dignitosa Ma secondo me Non si è snaturata Però è rimasta Abbastanza là Come fare a dire Che si è snaturata Ha perso Quella magia Che aveva all'inizio Secondo me Non l'ha persa Che ti sei abituato A vedere la stessa cosa Per quattro stagioni Può essere Ma allora Sta lì il problema Che a un certo punto Devi capire Quando la tua opera Poi finisce per Annoiare Vabbè Annoiare Adesso è una parola grossa Perché comunque Te lo guardi Però Deludere Quanto meno Lo spettatore Che aveva avuto Le farfalle Nello stomaco Con la prima stagione Però Alla gente Sembra che Non gliene freghi Un cazzo Più puntate ci sono E meglio è Se ne facessero Dieci stagioni E continuerebbero A guardarle Ancora 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 Alla fine Reparto geriatrico All'ultima stagione Di Stranger Things Diventa Cocoon La cosa che mi da fastidio È la durata Delle puntate Ok ormai I 40 minuti Canonici Sono scomparsi Perché a parte Pochissime serie Della tv generaliste Diciamo Dei canali generalisti Americani Sono spariti 40 minuti Sono o 45 O 50 Direttamente E va bene Però Girare 13 ore Di stagione E ridurle tutte In nove È stata veramente Una scelta Stupida A mio avviso Non so Ho molto paura Di quel finale Di stagione Che sarà lungo Due ore e mezza Sinceramente Perché 150 minuti Di roba Che cazzo Sono tanti I mid seasons Sono 98 minuti Ormai Ci hanno portato Dal cinema Dal guardare i film A guardarci le serie tv E adesso piano piano Ci stanno ributtando Praticamente Dei film Che noi ci guardiamo Perché tanto Sono una puntata Di una serie tv E non ci pensiamo Che è come guardarsi Tipo Cinque film Uno dietro l'altro Ce l'hanno fatta Ci hanno gabbato Volevano quello Fin dall'inizio Adesso noi siamo lì A guardarci 10 ore Di stagioni In due giorni Come se ci guardassimo Maratone Di film 13 ore Di Stranger Things Sono davvero 6 film Magari film Magari che hanno vinto L'Oscar Invece no Devo guardarmi Questa cazzo Di serie tv Che va bene Bella Storytelling Ti trattiene Ma figa Non posso spendere Un'ora e cinquanta Della mia vita Per guardare Questa cosa qua Che palle Ok però Sai perché è successo? Perché Netflix Comunica settimanalmente La classifica Degli ascolti Delle sue Serie tv Programmi E le comunica In minuti Visti Quindi più dura Più Sono in cima Quindi più fanno Le puntate lunghe Più Ho capito Ho capito Ok Detto questo Stranger Things Questa quarta stagione Da venerdì A domenica In termini Di minuti Ci sono stati 287 milioni Di minuti Visti Quanto tempo Sprecato No È che devi fare Il calcolo Più o meno Dici Ok Magari c'è chi ha fatto Binge watching Di tutta la stagione Chi magari ha visto Solo tre o quattro puntate Però hai un'idea Più o meno Di quante persone Possono averla vista Ti dico solo che Il secondo Telefilm È Avvocato di Difesa Non è il titolo originale Ovviamente Avvocato di Difesa Che brutto titolo Mamma mia Mi sembra come Il posto dove lavoravo prima Che l'hanno chiamato Pizza Posto Perché probabilmente Qualcuno ha scritto Pizza Place Su Google Translate E allora ha detto Pizza Posto Bello Quello è più bello Questo invece In originale era The Lincoln Lawyer Che in italiano Abbiamo tradotto come Avvocato di Difesa Perché lui vive In Lincoln Road Qualcosa del genere Allora per quello Che è Lincoln Lawyer L'avvocato di Via Lincoln Ha avuto 64,8 milioni Di minuti Visti Nella scorsa settimana E poi seguono Ancora nel podio E al quarto Quinto posto In ordine Stranger Things Stagione 1 3 e 2 E hanno rispettivamente 38 milioni Di minuti Visualizzati 24,3 milioni Di minuti Visualizzati E 22,2 Milioni di minuti Visualizzati Ed è un ottimo Scioglilingua A me Questa stagione Non sta dispiacendo Devo dire Perché si sta Mantenendo Su toni Molto cupi Molto horror Che mi piacciono Quindi quello È l'intrattenimento Che mi piace Se poi tu mi dici Dopo che avrò finito Di vederle tutto Che cosa mi è rimasto Sarà il rumore Il rumore delle cicale Che ti risponderà Ma è vero Le scene tra l'altro Violente Comunque splatter Sono anche molto belle Perché si sono presi Un sacco di scelte Molto coraggiose Tipo Ammazzare bambini E mostrare Cadaveri di bambini Quelle cose lì Le ho apprezzate Onestamente Devo dire Che le ho apprezzate Faccio un paragone Un po' tirato Però magari Fede si ricorda In Perry Mason Serie HBO Durante la prima puntata Quando viene rapito Il bambino Che lui dovrebbe recuperare Eccetera Il bambino viene mostrato Dopo A fine puntata Morto Non so se ti ricordi Fede a quella scena lì Sì E c'è la puntata dopo Quando fanno L'autopsia Al bambino Che gli avevano Graffettato Tutti gli occhi Per farlo federe aperto Invece lui era già morto Tanta roba quella Quello era stato davvero Coraggioso Come scelta Anche Stranger Fix Ma lì veramente Mi è tornato in mente adesso Quando dicevi coraggio Nel fare determinate scelte Con la differenza Che Stranger Things È PG-13 Quindi può vederlo Chiunque Praticamente E per Amazon Va su HBO E tecnicamente Non c'erano tette Ma graffette Minchia Un'altra cosa Che invece a me È piaciuta molto È la colonna sonora Beh con una sonora Non gli puoi dire niente La sigla di Stranger Things È una delle cose più belle Che abbiamo fatto Tra l'altro Negli ultimi decenni A livello di sigla televisiva No io quella La schippo sempre No male male Anche io la schippo Ma va bene Ma ragazzi Ma cazzo È una delle cose più belle Della serie Ascolta Sono già puntate da 80 minuti Almeno fammene saltare due La sigla Per regola mia La guardo soltanto O le prime puntate Quando ancora devo Conoscere la serie E l'ultima puntata L'ultima puntata La sigla La sigla la guardo Assolutamente Per godermi Proprio tutti Gli ultimi minuti Della serie tv Che sto guardando E io ho solo Quelle preferite Che ogni volta Non le salto Se invece mi fa cagare La salto Tipo che ne so La sigla di Fringe Non la salteresti mai A parte che c'erano pure I glifi Eccetera Sigla di Peacemaker Uguale Mai saltato Cioè te ne posso dire Un sacco Anzi guarda Ti dico anche questa Nonostante la serie Mi faccia cagare Adesso almeno La sigla di The Walking Dead È anche una di quelle Proprio più belle Per come parte Stranger Things È una di queste qua Sons of Anarchy Ce ne sono un po' di sigle Che proprio ti rimangono Nel cuore Che non salteresti Mai nella vita Lost Ma Lost non aveva la sigla Era solo un puff È per quello che non la saldi Breaking Bad Con quel cazzo di motivettino Che ti entrava proprio dentro Better Call Saul X-Files X-Files Secondo me È tipo una delle sigle Di serie tv Più catchy Della storia Nel senso che La senti una volta E quella è la sigla Di X-Files E non sentirai mai più niente Come quello Ancora adesso Nonostante appunto Magari alcuni mi piacciono Di più per come le hanno realizzate O come in Peacemaker C'è pure la coreografia E tutto Però quella è forse La più iconica di tutte L'ascolti una volta E sei terrorizzato Per tutta la tua vita Verissimo Ogni volta che la senti E il bello È che ti caghi sotto Ma gli alieni Spuntano dopo 24 puntate Ma tu ti caghi comunque sotto Tutte le stante volte Tu sai Che per quelle due puntate A stagione Ti cagherai addosso Non sai quando saranno Quelle due puntate Ma presumibilmente Verso la fine Comunque Ritornando su Stranger Things E basta Stranger Things Cosa mi vuoi dire? Cosa ti piace? Non mi interessa No no Secondo me Valodato il fatto Che siano riusciti A legare a doppio filo La colonna sonora Con la trama Quando Max Sta venendo Uccisa Di fatto Nel sottosopra Ah per le canzoni Che la riportano lì Tu dici Esatto Adesso c'è Running Up That Hill Che è numero uno Su Spotify Ovunque O comunque Super viral Poi vuoi mettere Questi artisti Lei non era sconosciuta Però Questi artisti Che non vanno più di moda Gli viene ripescata La canzone Del telefilm giusto E gli arriva Un botto Di diritti Oh ragazzi Adesso mi compro Una billetta Questa è tutta siae Vai che tutta siae Ultima cosa Questa è una domanda Che ho io È Cosa ne pensate Delle relazioni Tra i vari protagonisti Relazioni? Sì tipo C'è quella di Eleven Per esempio O scusate Umberta Con Mike Che l'hanno esplorata Quanto? Dieci minuti Quindi quella lì La lascerei perdere Io a me più che altro Mike con Will Eh non si può mostrare Relazioni omosessuali Tra i minorenni Vietato Allora sì Da quelle vibe Non credo che ci sia però Il La reale intenzione Di andare In quella direzione Quello che volevo Commentare Era proprio Questa generale Sensazione di Social awkwardness Tipo di continuo disagio Che non si capisce Se sia Tensione sessuale Sia il fatto che lui Si è sentito Abbandonato L'ultima relazione Che mi viene in mente Vabbè no aspetta Ci sono due relazioni C'è la relazione Tra Steve E Nancy Che Boh Mi porta a pensare Innanzitutto Che ci potrebbe essere Una morte Perché c'è la coppia Che è quella più affiatata Eccetera eccetera Quindi potrebbe essere Un bel colpo Ammazzare Magari Magari Steve Potrebbe essere Una morte Tra questi due Perché sono due personaggi Molto amati dal pubblico Quindi sarebbe un bel colpo Al cuore Che quindi potresti Riservarti come finale E qui Basandoci sui Classici Stereotipi E stilemi Del cinema Steve muore Si può già dire Questa cosa qua Innanzitutto C'è questo piccolo Indizio Potrebbe essere Indizio Perché è proprio Un secondo Quando lui viene morso Da questi Esteri Che sembrano Di pipistrelli Quando entra Nel sottosopra Viene salvato Però quando si benda C'è proprio questo momento In cui viene inquadrata La ferita E secondo me Questa ferita Potrebbe essere Una ferita infetto Che in qualche modo Comincia ad ucciderlo In un modo strano Lo fa diventare Il nuovo Vecna Esatto Quindi abbiamo già Il villain Per un'altra stagione Ambientata Fra 50 anni Cazzo Eccolo là No 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 Esattamente così C'è la quinta stagione Se questa stagione Uccidono Vecna E la prossima Chi è il villain Scusa Non è l'ultima Questa stagione No 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 Ce n'è un'altra Come no Questa è una scoperta Come un'altra stagione Ma vaffan Eh Qua potrebbe esserci Questa cosa E non lo sapevo Allora Io anche pensavo Fosse l'ultima Scusa L'han divisa in due Pensavo fosse L'ultimo colpo Quanta poca informazione Che c'è in questo podcast Dopo due ore e mezza Mi stai dicendo Che non devo guardare altro Sì sì Mamma mia Questa è una bruttissima notizia Fede Cioè sei stato anche un po' vigliacco A dirmelo così Io vigliacco Eh sì Infatti Federico Chiudiamo qua Non ho più voglia Di fare il podcast adesso Ed ecco Ci salutiamo Per l'ultima puntata Di spin off Mi dispiace Ma la serie È stata cancellata Ci riattiviamo con un revival Quando esce la quinta stagione Di Stranger Things Dopo due ore e mezza Devo guardare altro Sì ma L'avevano già comunicato Prima dell'uscita Della quarta Hanno detto La serie è stata rinnovata Per un'ultima Quinta stagione Dopodiché basta Nel frattempo Godetevi le due parti Di questa quarta stagione Ah e mancava ancora Una relazione comunque Questa invece La chiedo ad Aldo Tanto so già la risposta Perché l'ultima relazione Tra i personaggi Di Stranger Things Rimasta È tra Hopper E Joyce Quel segmento di Tramalillo Quasi odiato Si è salvato solo Per gli ultimi minuti Ma della loro relazione Cosa pensi Del loro rapporto Io ancora fatico Concepire il fatto Che una mamma Abbandoni un'intera famiglia Per andare in Alaska Senza dire niente a nessuno Dopo aver ricevuto Una lettera minatoria Scritta da qualcuno Che non si sa E aver utilizzato Un computer Non si sa bene come Per non farsi tracciare La telefonata Un cabinato Tirato fuori Questo tipo qua Magari A tutto Magari un personaggione Madonna Personaggione Vabbè Uno di quelli Che potrebbe essere Sacrificato Perché anche lui È molto apprezzato Dal pubblico Come era stato Con Bob Ecco quello Ne parlavo l'altro giorno Con una mia amica E ho detto proprio Ma era un personaggio Così buono E Joy sarà così felice E probabilmente Gli autori hanno detto No ragazzi L'avete fatto troppo buono E lo sappiamo tutti Che dobbiamo farlo Scopare con Opera Alla fine Cosa possiamo fare E vabbè Ammazzalo Che ti devo dire Così è stato Infatti è andata così E boh Io sinceramente A parte che Ho per veramente Tutta quella parte lì Della Russia Interrogatori Lui che viene picchiato Avrà due coglioni Ma perché È un bel personaggio Ma non è per lui È per tutta quella storia lì Che non serve A un cazzo di niente Hanno perso minuti Minuti di lui Che rompe Sta cazzo Mette giù Le barre di ferro Per fare passare Le ferrovie C'è un sacco di odio Per questa storyline qua E non c'è nessun odio Invece Per tutta quella storia Adolescenziale Fatta di bullismo Che dura Due barra tre puntate All'inizio Una città Di pezzi di merda Vivono loro Cioè tutti quanti Che bullizzano Con violenze Anche fisiche Una persona E sono tutti Che ridono E che sono presi bene Il DJ Che gli mette la musica sotto Lì hanno un pochettino Sbragato Sì sì Lì hanno esagerato Niente da dire Quello è il problema Sì Cioè no È stato un bullismo Esagerato Che spero Con tutto il mio cuore Che non esista Una cosa del genere Al mondo Cioè una coalizione Di un intero paese Capito Guardando il numero Di sparatorie Che ci sono in America Non è proprio Rose e fiori Andare a scuola Mi sorprendo Che non abbiano messo Una pistola A un bambino Sparatorie nelle scuole A parte E bullismo Dilagante In Stranger Things A parte Direi che abbiamo toccato Tutti quanti I tasti Che dovevamo toccare Direi che possiamo Salutarci qui E ritornare Per la prossima puntata Dove Non avremo Di che parlare Di Stranger Things Per almeno un altro mesetto Quindi Un saluto da Berlino Da Edimburgo E da Brescia Periferia Bravo Ciao a tutti Ciao Salve E sogni d'oro Ok 3 2 1 Ma che cazzo Fabrizio 3 2 1 Non era per uscire Fabrizio Il countdown Ma mettilo Il video È colpa mia Tra l'altro Aspetta Aspetta Arrivo È colpa mia Perché volevo Solo silenziare Il microfono Invece ho schiacciato Disconnetti È per quello Che ero perfettamente In un momento Così almeno Mentre mangio Non c'è rumore You know That gets funnier Every time You're being sarcastic But I think It does actually Get funnier Every time